Il presidente dell'IDV Antonio Di Pietro Grazie Scusate, io preferisco baciare la mano alla Liuzzi piuttosto che aghettati Allora, ci abbiamo alla fine di questo incontro e dobbiamo un po' trarre le conclusioni e anche le conseguenze Cominciamo la mano alla mano Prima di tutto ringraziamo quei due milioni e passa di cittadini Che firmando sul referendum hanno dato la possibilità oggi di porre ai cittadini alcuni quesiti fondamentali Per la libertà, per la democrazia, per l'ambiente, per il futuro Quei due milioni di cittadini che venivano derisi, denigrati, irrisi l'anno scorso Nel mentre si ricavano ai gazebo dell'Italia Valori per firmare i referendum Dobbiamo dire grazie anche a quegli altri due milioni di cittadini Che insieme a un'altra realtà Neanche partito, neanche con la forza del partito Il forum dell'acqua Si sono raccolti intorno a loro in un quesito, anzi in due quesiti In due quesiti referendari Su cui noi tutti italiani saremo chiamati a dare il nostro risponso ancora fra qualche mese Ripeto, due milioni di cittadini che sono andati a firmare un referendum sull'acqua proposto dal forum per l'acqua pubblica Un'associazione apartitica che si rivolge a tutti i cittadini e che noi appoggiamo nel loro impegno Perché sappiamo che il nostro referendum e il loro referendum è una sommatoria Noi capiamo in questo momento che più siamo a parlare ai cittadini, al cuore dei cittadini Su che cosa stanno riflettendo oggi e votando domani Più riusciremo a entrare nell'informazione e a far sapere di che cosa si parla Perché non so se vi siete accorti Questo è il problema dei problemi Non si vuole far sapere ai cittadini che cosa sta accadendo E quindi ogni volta che c'è qualcosa che va contro il regime Contro le idee di qualche gruppo o di qualche lobby Contro le idee piduiste Allora si mette il bavaglio Allora si svia l'attenzione Allora si cerca il trucco Qual è il primo trucco che noi denunciamo? Il trucco di non fare il 15 e il 16 maggio O quantomeno al ballottaggio referendum ed elezioni amministrative Guardate che se ci riflettete Solo questa scelta dovrebbe imporre al popolo di mandare a casa questo governo E questi parlamentari della maggioranza asserviti a questo governo Perché non c'è una ragione economica di buonsenso Di etica politica istituzionale e costituzionale Perché non si debbono fare insieme sia il referendum che l'elezione Il cittadino ci deve andare lì Già che ci va fa l'uno e fa l'altro Perché deve andarlo a fare il 12 giugno Quando già ormai le scuole sono chiuse Quando già per due settimane di fila è andato a fare la stessa cosa per votare all'amministrativa Perché si devono buttare 350 milioni di euro 350 milioni di euro Se voi riflettete quante cose si possono fare con 350 milioni di euro Sono stato ieri nelle Marche e mi dicevano Ci sistemavano il nostro disastro che è avvenuto con la calamità naturale Ci sistemavano molte cose all'Aquila Ci sistemavano molte persone diversamente abili e così via Posso andare all'infinita Ci sistemavano le cose più urgenti in materia di scuola, di sanità e quant'altro Qualunque cosa ci potevano fare Meno che buttarli dalla finestra Qualcuno dice Qualcuno dice È stato un errore Magari fosse un errore Gli errori si scusano È stata una volontà dolosa, criminale, truffaldina È stato un ladrocilio di Stato Buttare via 350 milioni Per impedire ai cittadini Di dare il proprio voto e di fare il proprio dovere Siamo qui quindi Per lanciare la nostra campagna referendare Siamo qui però oggi In una giornata particolare Su cui pure dobbiamo riflettere Dobbiamo riflettere E la giornata È della vigilia Di un avvento di guerra C'è una realtà Mentre noi parliamo Del futuro che sta verificandosi oggi E loro su questo Anche su questo Un partito politico Come di tali valori Deve dire la sua Magari Esprimerà le proprie valutazioni Su cui non sono tutti d'accordo Ma la responsabilità di dire Ciò che si pensa E come intende operare Lo dobbiamo fare Lo dobbiamo fare per rispetto ai nostri elettori Lo dobbiamo fare per rispetto alla cittadinanza E per rispetto Ed è questa la scelta che facciamo Quando è accaduto anche a noi nel passato Anche noi nel passato Abbiamo avuto il nostro Gheddafi Si chiamava Mussolini E quel passato Era un passato di dittatura Noi Dobbiamo liberarci E liberare Il mondo intero Dalle dittature Noi non possiamo fare da solo nulla Non possiamo fare da solo nulla Da soli nulla Ma non possiamo rinunciare Di stare all'interno Della comunità internazionale Che si chiama Nazioni Unite Qualsiasi decisione Al di fuori delle Nazioni Unite Sia in senso di Ritirarsi indietro Fare come Ponzio Pilato Sia in senso di fare L'avventurieri Che vanno a fare Do coio coio Qualsiasi soluzione È una soluzione sbagliata Ma nell'ambito Di un gesto di responsabilità Verso le Nazioni Unite Noi dobbiamo dire Da che parte stiamo E allora lo diciamo In modo forte e chiaro Noi siamo dalla parte Del popolo lipico Contro il suo dittatore Che lo sta distruggendo Lo sta ammazzando Lo sta violentando Lo sta Sta compiendo un genocidio Dobbiamo dirlo In modo forte e chiaro Perché Perché ripeto Lì si sta verificando Proprio questo E dobbiamo dire In modo forte e chiaro Che cosa è avvenuto Nel nostro paese Un paio di mesi fa Un paio di mesi fa In queste strade In questa città C'era un signore Con la Sua tunica Che si faceva Fare il bacio a mano Dal nostro presidente Del consiglio C'era un signore Che Si è portato I cavalli berberi Per far vedere Come sapeva cavalcare Sul nostro terreno C'era un signore Che ha chiesto A un'agenzia Di scegliersi 300 ragazze 60 90 60 Per poter Islamizzarle Così si chiama Dalla sua parte C'è un signore Nostro invece Che ha sventuto La dignità Del nostro paese Per fare Quel che lui ha detto Il giullare Lui ha detto Io sono un guascone Ma i guascori Stanno in guasconeria Non a Palazzo Chigi A Palazzo Chigi Ci devono stare persone Che hanno il senso Dello Stato Il senso Delle istituzioni Il senso Della responsabilità Questo denunciamo Denunciamo E informiamo Il paese Che nel mentre Si facevano Queste guasconate In Parlamento Con il voto Contrario Dell'Italia dei Valori E sono orgoglioso Di questo In Parlamento È stato approvato Un trattato Di amicizia Con la Libia In cui Tra un giochino E l'altro Hanno approvato Un articolo 5 Che diceva E dice Testualmente Ancora ora Che l'Italia Si impegna E impedire Qualsiasi azione Che possa ostacolare Il governo Gaddafi Cioè L'esatto contrario Di quel che Si dovevamo fare Di quel che Dobbiamo fare Di quel che Non ci chiede di fare Ecco perché Noi diciamo Oggi Noi dobbiamo Fare il nostro Dovere Per quel che Ci chiedono Le Nazioni Unite Che è quello Che ci chiede La comunità Internazionale Soprattutto Per quel che Ci chiede Un popolo Libico E oppresso Così come Tanti altri Paesi Hanno fatto Nel momento Della liberazione Del nostro Paese Dal Regime Fascista Dove La resistenza Insieme Agli alleati Hanno riportato Uno spirito Una pace Di democrazia Nel nostro Popolo Ma noi Oggi Dobbiamo Pretendere Che si ritorni In Parlamento E che con Questo governo Con la Cenere Sopra il capo Dica insieme Alla sua Maggioranza Che quell'articolo 5 è stato Un atto Di contiguità Un atto Di complicità Con il regime Gheddafiano Peraltro I due regimi Si assomigliano Nella loro Parte ridicola Nella parte Drammatica E quello Di Gheddafi Purtroppo È molto Molto Peggiore Lo dovevo fare Quest'affermazione Perché vorrei Sgomberare Il campo Su quel Che è la Posizione Dell'Italia Di Valore Ma torniamo Torniamo Invece Alla ragione Per cui Siamo qui Stavo facendo Ringraziamenti Permettetemi Di ringraziare Allora E di essere Orgoglioso Del partito Che ho fondato Un partito Che Tutti cercano Di ridere Anche essi Insomma Vi ne siete accorti In molti casi Vorrebbero Che non ci fossimo Nelle istituzioni Quasi quasi Che diamo Fastidio E però Poi Alla resa Dei conti L'anno dopo Tempo dopo Vengono tutte Alle nostre posizioni Noi eravamo Qui A Piazza Navone Nel 2008 Quando Berlusconi È andato Al governo E noi Abbiamo detto Attenzione È andato Al governo Un governo Delle persone Che vogliono Perseguire Un fine Eversivo Rispetto Alla Costituzione Sapete Com'è finito Per quella Manifestazione Che abbiamo Fatta A Piazza Navono Che sono stato Processato Per attentato Alle istituzioni Certo Sono stato Prosciolto Anche perché Io quando mi chiamo Di magistrato Corro dai magistrati Perché Questa idea Che quando il magistrato Chiama un potente Questo Sarrabbia Io credo Che in un paese Normale Cominciamo a entrare Nel merito Della questione In un paese Normale Chi sta Nelle istituzioni Se proprio Dovessero fare Una legge Dovrebbero fare Una legge Che dice Chi governa Deve essere processato Prima Degli altri Non dopo Gli altri Voi provate A ragionarci Cioè Questa idea Che dicono Bisogna Bisogna Farsi processare Dopo che ha governato Ecco il cavolo Io lo voglio sapere Prima Se affido Il governo A un delinquente A una brava persona Dopo che me ne frega più Ma fregato già Lo devo sapere Prima Non dopo Ecco perché Noi siamo contro Il legittimo impedimento Sul piano tecnico Perché noi Insistiamo Con questo referendum Per un motivo Molto semplice Perché è vero Come è vero Quando ha detto Il collega Tinti Cosa ha detto Tinti Ha detto Possono capitare Casi di legittimi impedimenti Legittimi Appunto Può capitare Ti muore la madre Ti sposi Il figlio Deve andare in ospedale Ti ha preso Una colica Per l'amore di Dio Ma Se il legittimo impedimento Lo decidi tu Quando ce le deve avere Non lo decidi il giudice Tu avrai Il legittimo Se sei colpevole Il legittimo impedimento Tutte le volte Che deve andare lì Specie se Essendo capo Del governo L'agenda Dei tuoi appuntamenti Te la fai tu Per cui Quando vedi Che ti fissono Un'udienza Tac Quel giorno Ti fissono Un incontro A discutere Del sesso Degli angeli Non gli puoi dire Mai niente Quindi sei All'arbitrio Dell'imputato Che può fare Quel che può fare Quel che gli pare Semplicemente Perché sta al governo O stai al governo O stai Mezza una strada L'articolo 3 Della Costituzione Siamo tutti uguali Di fronte alla legge Questo è un paese Democratico Questo è un paese E uno stato di diritto Tutti il resto Sono furbati Perché vedete Perché vedete Ci sono due modi Per violare la legge Due modi Per violare la legge Uno La violi e basta Vai e rubi Ma quello È il modo più facile Quello è il modo più facile Vai e rubi C'è un altro modo Per violare la legge Quello che ti fai Una legge tutta tua Per dire Che se rubi tu Non è reato Se rubano gli altri È reato Quella è una legge È un modo Strumentale Per non far risultare Reato Quel che prima Era reato Per non far processare Farsi processare Mentre gli altri Si fanno processare Ecco perché Che noi abbiamo voluto Dove va il Parlamento Questo è il tema Questo è il tema Allora La ragione Perché dobbiamo far capire I cittadini È l'importanza Per cui vanno a votare Perché Il cittadino Deve avere fiducia Di chi lo governa E la fiducia E la fiducia Non glielo puoi dare A occhi chiusi Specie se Come nel caso Nel nostro paese Ogni volta Che il cittadino Ha dato un dito Gli hanno fregato il braccio Tanto è vero Che La maggior Percentuale Di persone Con problemi Di giustizia Non si hanno Nei bassi fondi Delle metropoli Ma in Parlamento Con l'11-12% Di parlamentari Con i problemi Di giustizia Tanto è vero Che ancora Nel momento In cui si sta facendo Il rimpasto Di questo governo La prima cosa Che sta chiedendo Berlusconi Ai suoi futuri Prossimi ministri È C'hai qualche problema Di giustizia No E non puoi fare il ministro Capisci Questa è la ragione Per cui noi abbiamo detto Questo referendum È importante Ma la ragione Soprattutto politica Perché torno a ripetere Che cos'è Berlusconi E cosa rappresenta Il suo modo Di governare il paese Oggi l'hanno capito tutti L'hanno capito tutti Perché L'altro ieri Nel mentre è uscito Alle manifestazioni Del paese Ha capito lui Sulle sue pelle Sulle sue spalle Che hanno cominciato A fischiarlo Tanto è che Non so se lo sapete Quando è andato a messa È dovuto uscire Dalla sagrestia Perché se no I fischi Gli arrivavano addosso Allora il problema Qual è? Posto che Grazie a Dio C'è una società civile C'è una coscienza civile C'è una volontà popolare Che vuol dire Basta Come si fa? Non puoi prendere il bastone Non devi prendere il bastone Però Una soluzione La devi trovare Non possiamo Non possiamo aspettare Al 2013 Non possiamo Sognare Che lui Si dimette da solo Ma quando mai? Quello lì Ci è andato apposta Lì per non andare in galera Vuoi che Si dimetta Quello non è scemo È con lui Tutti quelli Che la pensano come lui Allora Bisogna mandarlo via Il Parlamento Non lo manderà mai via Perché con questa legge elettorale La maggior parte dei parlamentari O sono ricattato O sono comprabili Voi avete visto Hanno fatto un apposito gruppo Che si chiama il gruppo dei disponibili Quelli che retoricamente Chiamano i responsabili Sono i disponibili Sono coloro che Si dispongono Di fare questo O quello A seconda di quanto Ricevono in cambio Politicamente Si intende A chiacchiere Allora Per mandarlo via Dobbiamo adottare Lo stesso metodo Che lui Dice Per cui È legittimato A governare Ho avuto La volontà del popolo Dalla parte mia Sfidiamola Vediamo se è vera Che questa volontà Del popolo C'è ancora Perché il popolo La prima volta Lo può fregare La seconda volta Ma quando non c'ha più la pagnotta Col cavolo che viene più preso in giro Andiamo all'appuntamento Lo dico Non tanto a noi Ma lo dico Lanciando un appello A tutte le forze politiche Le forze sociali Le forze economiche Le forze culturali Di questo paese Quando abbiamo raccolto le firme E quando abbiamo cominciato Questa campagna referendaria Ci è stato detto Che noi eravamo Il migliore alleato Di Berlusconi Perché facevamo Troppa opposizione E perché ci opponevamo Con il referendum Adesso avete visto Come si sono accodati Tutti quanti E allora Se vi siete accodati Tirate fuori Tirate fuori L'orgoglio Ritiriamo fuori L'orgoglio Di essere Un paese civile Venite a queste manifestazioni Partecipate pure voi Convincete i cittadini Casa per casa Parrocchia per parrocchia Mi verrebbe da dire Perché Voglio dire Questo dobbiamo far capire Dobbiamo far capire Che non ci si allea Con una persona Che fa gli affari suoi Invece che con gli affari Del paese Allora La ragione principale Del referendum Sul legittimo impedimento Su cui chiediamo E ci appelliamo A tutte le forze Politiche e culturali Al popolo È quello di Rispondere a questa domanda Con un referendum Ma tu Lo vuoi ancora o no? Se non lo vuoi ancora Fai un voto Con cui Dici sì Sì All'abrogazione Del legittimo impedimento Che deve valere Come un voto politico Per dire No Vai a casa E cambiamo questo paese Questo è il messaggio Perché il giorno dopo Anche il presidente Della Repubblica Dovrà prendere atto Che non ha più Un consenso popolare Tale per cui Deve andare a casa E poi E poi Questo è Abbiamo parlato Abbiamo parlato Delle ragioni Per cui gli amici Del forum dell'acqua Hanno avanzato Il loro quesito Che vedete È una ragione semplicissima Io la spiego così Mettiamo che invece Dell'acqua Avessero fatto La privatizzazione Completa Della gestione Della sanità O della gestione Della scuola Da già di fatto Ci stiamo Già di fatto Ci stiamo Però la norma Ancora non la fanno Però ancora C'è un po' di pubblico Senza soldi E senza strumenti Però La norma esista Ancora Ma è chiaro Che se noi Dovessimo privatizzare Tutta la sanità O dovessimo Privatizzare Tutta la scuola Dov'è la fregatura? Che se c'hai soldi Ti curi Se c'hai soldi Vai a scuola Se non c'hai soldi Ti freghi E allora È mai possibile Che se c'hai soldi Paghi l'acqua E se non c'hai soldi Rimani Mori di sede Io credo che questo sia Una cosa che non ha Né capo Né coda Loro dicono Ma è solo la gestione Perché l'acqua È di proprietà pubblica Sì vabbè l'acqua È di chi apri i rubinetti E ti facci l'acqua Perché poi Sarà pure pubblica Ma se apri i rubinetti Non mi esci Perché sono morto di fame E ne riesco a pagare la bolletta Moro lo stesso di sede Eh ma sei morto di sede Per l'acqua pubblica Ma l'acqua è di proprietà pubblica E chi se ne frega Io voglio Un'acqua pubblica Anche nella gestione Perché voglio Dar da bene agli assetati Anche se sono morti di fame Ecco perché io Appoggio Noi dell'Italia di Parola Appoggiamo Il quesito referendario Proposto dal forum dell'acqua Perché hanno avuto Una intelligenza E una missione Che mi pare sia importante E veniamo all'ultimo quesito Il nucleare Eh no Ci hanno detto Appena tre o quattro giorni fa Perché bisogna poi Riportare sei giorni Avete visto Ogni giorno cambiano A seconda delle esigenze Ma non per un Intimo Ripensamento Lo ha detto Il ministro Prestigiacomo Ha detto Eh Dobbiamo stare attenti A andare avanti Con il nucleare Adesso Perché se no Perdiamo le elezioni Perché perdi il mondo Perché perdi la salute Perché perdi l'ambiente Perché perdi il futuro Dei tuoi figli Perché perdi economicamente Perché perdi tutto Perché mette in rischio Un'apocalisse Non perché perdi le elezioni Chi se ne frega Se perde o vince le elezioni Mi interessa vivere E far vivere i miei figli Assicurare un futuro Al mio paese L'idea stessa Per cui Cambiano Cambiano Dichiarazione A seconda della convenienza Già la dice lunga Su chi fa sciacallaggio Io lo sciacallo Che dice A noi sciacallati Che facciamo sciacallaggio E allora Ripetiamo questo Quando abbiamo raccolto Le firme Noi? L'anno scorso Non c'era L'anno scorso Il disastro del Giappone Non c'era Quindi Lo abbiamo raccolto In un momento Non sospetto E perché Le abbiamo raccolto Quelle firme Perché noi riteniamo Che le centrali nucleari Rappresentano il passato E' vero Che le centrali nucleari Ce li hanno altri paesi Anche vicino a noi Perché le hanno fatto 40 anni fa Quando la ricerca La tecnologia Non ancora Individuava Altri più moderni mezzi Per realizzare Con meno spesa Con più tutela dell'ambiente Con più tutela della salute E con Un'energia pulita Se è vero Come è vero Che la stessa Germania Ha detto Che nei prossimi 20-30 anni Intende portare All'80% La produzione Di energia alternativa La Germania Che dice Che nei prossimi anni Si convertirà Nella energia Alternativa Del sole E dell'aria E che c'è Il sole e l'aria La Germania Poco ce n'ha Chi è il maggior Fornitore Della materia prima Di sole e aria In questa Europa L'Italia Paradossalmente Paradossalmente L'Italia L'unica fonte L'unica materia prima Che ha a disposizione Per produrre energia L'aria Il sole Non la sfrutta Anzi La penalizza Perché l'anno scorso Nella settimana scorsa Gli ha portato via Anche gli incentivi Per sviluppare L'energia eolica E quella Solare E invece Va a ricercare Un'energia nucleare Che La cui materia prima Non ci abbiamo Qualcuno dice Ma dobbiamo fare L'energia nucleare Perché Se no dobbiamo andare A comprare Il petrolio E perché L'uranio Non la compri Ma il petrolio Prima o poi Finisce E perché L'uranio Non finisce Cos'è che Non finisce mai Il sole Grazie a Dio Se Non ti metti A fare un'apocalisse Che scoppia Scoppia 1 Scoppia 2 Scoppia 3 Alla fine Succede come i dinosauri Scompariamo tutti quanti Perché di questo Bisogna preoccuparsi Perché non sappiamo Con questo proliferare Di energia nucleare Dove andiamo a finire Cioè A nessuno Viene in mente Ma voi E tutti i genitori La prima cosa Che avete detto A vostri bambini Qual è? Stai attento Dove metti il passo Che vai a finire nel burrone Cioè Ci sono delle cose A cui non puoi Fare a meno Il terremoto Non lo puoi fermare Viviamo in questa terra Dove c'è Il terremoto Lo tsunami Il nubifragio Ma ci sono delle cose Che sono prodotte dall'uomo E l'uomo Per un principio generalissimo Di precauzione Di conservazione Ma possibile Che deve essere così scemo Da produrre una cosa Che lo distrugge Io questo non capisco Fosse l'unica Ma fosse l'unica Fosse l'unica Soluzione Allora lo potrei pure capire Rischio perché tanto Rischio perché sono già morto Ma non è l'unica soluzione Anzi Paradossalmente Più passa il tempo E più ci sono soluzioni alternative Meno costose E meno dannose E allora Che senso ha Rincorrere nucleare Questa è la ragione Per cui noi abbiamo Voluto questo referendum Nel merito Ma anche nel metodo Noi contestiamo Quel che ha fatto il governo E questa sua maggioranza Lo contestiamo Perché in un paese democratico In uno stato di diritto Beh viva il Dio Quando il popolo Fa un referendum E ti dice Nel mio paese Non voglio le centrali nucleari Se tu lo vuoi fare La prima cosa che devi fare E devi andare a richiedere Ai cittadini Al tuo popolo Se ha cambiato idea o meno C'è già stato un referendum Ha già detto Che non le volevamo Se lo rifai Devi chiedere al popolo Perché dico questo? Perché non solo Non l'hanno chiesto Prima di fare la legge Ma adesso Non vorrebbero fare il referendum Adesso boicottano il referendum Ecco perché È un attentato Alla Costituzione Allo Stato di diritto Tutte queste pastoie Che stanno mettendo Per impedire il referendum E la peggio delle pastoie È questa pastoia mediatica Di queste ultime ore Le stesse persone Che senza pudore Un giorno sì E uno pure Vanno a porta a porta a dire Un giorno Andremo avanti come treno Sul nucleare Un giorno Dobbiamo rifletterci Che vuol dire Dobbiamo rifletterci? O lo fai O non lo fai Allora Se veramente Ti sei pentito Della stupidaggine che fai Devi fare una sola legge Abroghi Il sistema nucleare Come fonte di approfissionamento Energetico Nel nostro paese Tutto il resto Tutto il resto È una furbata Una furbata Che serve solo A scollinare Il 12 giugno Ultima data utile Per fare il referendum Capito cosa vogliono fare questi? Vogliono imbrogliare i cittadini italiani Facendo credere Che stanno facendo Una riflessione Per imbrogliare i cittadini italiani A non andare a votare Perché loro stanno riflettendo Al cesso stanno riflettendo O peggio Vogliono fare una norma ponte In cui dicono Ma l'ho scritto per legge Che sto riflettendo E vabbè Poi hai accesso per legge Io Ma dopo il 12 Cominceranno a dire Abbiamo riflettuto Faremo le centrali più sicure Non esiste niente di sicuro In materia di nucleare Perché Tu puoi fare tutto ciò che vuoi Ma se questo poi Viene innescato da un fatto naturale Che non puoi prevedere Non puoi prevenire Non puoi bloccare Tu non sai dove va a finire Perché puoi fare la centrale Più bella al mondo Ma quando ti arriva il kamikaze Come è arrivata Le torri gemelle E che gli vai a dire a quello Che gli vai a dire Quello ha già deciso di morire Di ammazzare tutti quanti E se cominci a fare una centrale In quelle aree vicine all'altro Scoppia la prima E scoppia la seconda Scoppia la seconda E scoppia la terza E che cosa vuol dire il fatto Ma l'hanno fatta vicino a noi L'hanno fatta vicino a noi Dobbiamo essere promotori Di un ricambio Strategico Del sistema di approvigionamento nucleare Dobbiamo essere i primi della classe A proporci Come una innovazione Verso il futuro Tanto è vero Che i paesi nuclearisti Stanno ripensandoci a tutto questo E allora Avviamoci alla conclusione Di questo nostro discorso Oggi Oggi noi abbiamo aperto Questa campagna referendaria Perché Vogliamo informare i cittadini Che Sono temi planetari Quelli che stiamo affrontando L'acqua L'aria La salute L'ambiente Sono temi planetari Su cui i cittadini Devono dare una risposta Di non cadere Nell'errore Nella tentazione Che questa è una battaglia politica Fra l'Italia dei valori E chissà chi Non è di nessuno È solo dei cittadini Noi abbiamo fatto soltanto Il nostro dovere Nel raccogliere Una parte delle firme Gli amici Del forum dell'acqua Hanno fatto il loro dovere Nel raccogliere Un'altra parte delle firme Ma il tema riguarda Che aggiunge L'apertura L'apertura totale A tutte le forze politiche A tutte le forze sociali A tutte le forze Dell'informazione Economiche Dateci una mano A convincere i cittadini Che in questo momento Stare alla finestra Rinunciare E un po' rinunciare A vivere Non tanto per sé Ma per i nostri figli Andiamo tutti a votare Andate tutte ad informare Per mandare a casa Al più presto Un sistema Appiduiste Di governo Per garantire Al più presto Che sia l'acqua Sia l'aria Sia un bene Di tutti e per tutti Grazie Grazie